Ormai il centrosinistra di Barletta più che a una coalizione politica somiglia al Carnevale di Rio all'incontro convocato ieri sera da quel genio della politica che il commissario cittadino del Partito Democratico Andrea Patruno si è presentato infatti una folla di quasi 80 persone, lo scienziato invertendo qualunque logica, che vorrebbe prima un tavolo politico composto dai partiti della coalizione preesistente per poi allargare ad altri soggetti e allargare il mondo della società civile e delle associazioni ha fatto esattamente il contrario ed è successo così che ieri sera nella sede del PD dove era convocato l'incontro si è presentato chiunque partiti veri, partiti virtuali, partiti personali perché formati solo da una persona e che hanno un solo voto, rappresentanti della società civile, rappresentanti di non si sa quale società civile, rappresentanti di se stessi, rappresentanti di neanche se stessi, associazioni seri, associazioni inesistenti, movimenti che non si sono mai mossi, passanti, curiosi, insomma mancava solo al Farano e poi c'erano tutti. Un Barnum che naturalmente non ha concluso nulla. Patruno si è limitato ad esprimere la volontà del centrosinistra di allargare la coalizione a chiunque riconoscendosi in un programma da scrivere insieme voglia farne parte con una lista, i presenti ad aderire genericamente all'invito. Ormai è certo centrodestra e centrosinistra si sono invertiti i ruoli sino all'ultima campagna elettorale e il centrosinistra a partire in anticipo individuando rapidamente candidato sindaco e coalizione con o senza primarie, mentre il centrodestra arrancava sino all'ultimo giorno, immerso in inutili riunioni con una folla di pseudo rappresentanti di partiti, associazioni e movimenti che dopo aver dato fastidio in ogni modo contestato, protestato, preteso, sparivano regolarmente il giorno della presentazione delle liste. Li definimmo i segretari non di partito ma senza partito, tipi sinistri, che come avviene nei film horror di Romero, si destano non si sa da dove ad ogni campagna elettorale, attivissimi nelle trattative, immancabilmente chiedono che si discuta innanzitutto il programma e che si faccia solo un identikit del candidato sindaco, si avvitano in discussioni infinite, filosofeggiando e dispensando saggezza, poi come si sono materializzati, come dicevamo, il giorno della presentazione delle liste si smaterializzano e spariscono per riemergere immancabilmente alla campagna elettorale successiva. E' stata la storia del centrodestra barlettano, ora grazie a Patruno lo è diventata del centrosinistra. La realtà è che il candidato che dovrebbe mettere tutti d'accordo, cioè Pasquale Cascella, giornalista e portavoce del Presidente della Repubblica, non ha ancora sciolto la sua riserva, essendo oltretutto impegnato nel suo alto ruolo sino alla fine del mandato di Giorgio Napolitano. Che tuputi, Savaste e i socialisti, ufficialmente o ufficiosamente, hanno già detto che pur con tutta la considerazione che hanno di Cascella non intendono accettare candidature calate dall'alto, ma solo il risultato di elezioni primarie. Stasera dovrebbe esserci un incontro ufficioso tra le segreterie della Coalizione Italia Bene Comune, mentre la folla tornerà a riunirsi dopo domani. E mentre il centrosinistra si aggroviglia su se stesso, il candidato del centrodestra Giovanni Alfarano da oltre un mese agisce indisturbato. Onestamente non sappiamo con quale profitto e se questo vantaggio lo stia sfruttando al meglio. Non ci risulta infatti una sola riunione del tavolo politico del centrodestra, il che fa sì che ad oggi la coalizione di Alfarano è formata da Alfarano.